chi c'è qua che sta pasticcia? Ciao belli miei, ciao! Buongiorno, vediamo un po' qua. Allora oggi farò un piatto speciale, perlomeno per noi è speciale. Allora qui c'è un bel ragù e qui riso, eccolo qua, questo è 300 grammi giallesso, ecco qua, vedete? Qua vedete? Questo è un bel ragù che ho fatto col sedano, la carota, la cipolla, l'olio, il classico ragù. Adesso vado a mettere questa mozzarella un po' tritata, ecco qua, e poi metto del parmigiano, come se piovesse, proprio pioggerella del parmigiano, mischiate bene, ecco, adesso aggiungo qualche pezzetto di mozzarella, vedete? Questa ce deve essere, non è troppa, questa ce deve essere proprio, ecco qua, la lasciamo così, e la lasciamo così. Adesso metto le melanzane, vedete? Ecco qua, questo è uno spettacolo, eh? Dovete mettere così, eh? Vedete? Fagli vedere qua dentro. Guardate un po' qua, ecco, messe bene, che devono coprire sotto pure, vedete? Ecco, devono uscire fuori là. Adesso, ecco fatto, dobbiamo fare così, perché dobbiamo coprire questo, vedete? perché gli facciamo un letto. Aspetta, ora vi faccio vedere, eh? Ecco, vedete? Com'è fatto? Così, qua. Aspetta, eh? Qua un'altra, ecco, vedete? Ecco fatto, vedete? Voilà. Ecco qua, ecco fatto, vedete? Che meraviglia. Deve venire. Questo è troppo buono, ecco, guardate che bello. Questo è fantastico. Proprio fantastico, hai detto bene. Proprio buono e fantastico. Una meraviglia. Tiè, ecco, guardate un po'. Vedete? Vieni, vi faccio vedere. Ecco. Ok. Adesso, guardate, eh? Voilà. Adesso devo fare con le mani. Ecco qua. Vedete? Mettete il riso, che avete ben condito. Ecco, riso. Tanta mozzarella, mi raccomando. Una meraviglia, mamma mia. Tanta, perché io non ci rimetto l'altra, eh? Tanta, tanta mozzarella. Questa era un bel po' che non facevi, eh, ma? Eh, sì. Buono. Vedete? Ecco, poi mettiamo l'altra mozzarella. Come deve essere, ben guarnito. Ecco, voilà. E poi si ricopre con l'altro riso. Vai. Spettacolo. Questo è un ciambellone di melanzane al riso. Eh, ma? Sì. Questo è speciale. Un ciambellone di riso ricoperto di melanzane. Ecco qua. Vai. Spettacolo. Andate bene giù la mozzarella così. Ecco. Vai. Questo è speciale. Ecco. Con questo fate il figurone proprio. Adesso tirate fuori queste. Dovete avere pazienza, eh, regà. Ecco qua. È più a dire che a fare, eh, poi. Guardate un po'. Vai, guarda che spettacolo. Guardate un po'. Che margherita. Tiè. E poi fate così, vedete? Eh, che robetta, ragazzi. Guardate un po'. Tiè, guarda che roba. Così. Perfetto, ma. Così. Vai. Ecco. Lo spettacolo. Tiè, vai. Guardate un po'. Ecco qua. Adesso mettiamo un po' di pangrattato. Ho messo un po' di pangrattato e parmigiano. Ah, pangrattato e parmigiano. Adesso lo vado a infornare. Il forno sta a 180 e lo metto per un quarto d'ora nel forno a 180. Dopodiché lo metto a 160 per una mezz'oretta. Però poi vi regolate voi perché lo vedete che diventa dorato e che deve essere... Il riso che il riso è usato. Il riso io metto quello che non scuoce. E... Deve essere cotto al dente. Al dente. Cotto al dente. Ok? E allora adesso andiamo a fornaggi il darei. Dai, esù, vai. Faccio vedere. Questo quando è cotto lo tirate fuori dal forno e lo tenete una mezz'oretta così a riposare. Io questa è mezz'ora che sta qui a riposare. Sì, sennò dopo è troppo caldo. Perché è troppo caldo, sennò. Poi fate sto lavoro, eh. Sia di qua, di qua, insomma tutto intorno. Tutto intorno al bordo. E qua. Eh certo. Fino a giù. E poi lo tiramo fuori, eh. Vai. Allora. Ne è scotta però. Eh, infatti stai attenta. Eh, ci manca. Oh, qui. Vai. Non cascare, eh. Vai. Ops. Vai, tira. Vai, vai, vai. Ecco. Eccolo, eh. Madonna come scotta ancora, oh. Guardate che meraviglia. Ecco qua, vedete? Che spettacolo. Vai, giroci il piatto e faccio vedere quella. E ancora caldo. Ecco. Vedete? Adesso io lo taglio. Che spettacolo. Una meraviglia. Taglio, su. Guardate che meraviglia. Guardate che bello. Guarda un po'. Un spettacolo. Adesso gli famo il taglio. Che meraviglia, ragà. Vedete? Eccolo qua. C'è una fama. Questo se ci avete ospiti fate un figurone. Ma veramente un figurone. Altro che figurone. Guardate. Vedete? Ecco. Amo gli famo vedere. Vai, guardate che bello. Guardate. Eh, giroci il piatto. Eccolo, guardate che spettacolo qua. Guardate che crosticina. Via, faccio vedere qua. Ecco, guardate. Vedete poi tutta la mozzarella. Eccolo, buono, ragà. Perché anche dopo mezz'ora ancora scotta, eh. Che spettacolo. Va bene? Qua si leccano noi i baffi. È una bontà, va. È una bontà, eh. Adesso, madonna. Ah, ci fa l'assaggio in diretta. Dai, va. Vai, vai, vai. Ammete. Com'è? Com'è, ma? Guardaci un po'. Che spettacolo, raga. Una goturia, vè? Sì, eh. Guardate che meraviglia. Buonissimo. No, buono. Buonissimo. Oh, dai. Fatelo. Perché questo è speciale, eh. Di più, di più, di più. Se ci avete gente, fate un figurone. Ma anche se ci avete una festa, insomma, una cosa particolare. Allora, io spero che vi sia piaciuta anche questa bella ricettina. Certo che gli è piaciuta. Tanti baci. Baci, 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 baci. Baci, baci dal cuore. E scusateci se non riusciamo a rispondere a tutti i vostri commenti. Ecco, quello. Piano piano risponderemo a tutti. Un bacio grande, grande, grande. A tutti. Dal cuore. Dal cuore. Baci, baci. Ciao, ciao. E seguiteci per altre ricette. Baci.